Un saluto cari amici di Xtreme Hardware, quest'oggi parliamo del Plastec eScan A280, uno scanner di rete prodotto e commercializzato da Plastec rivolto a uffici domestici o comunque piccole imprese che necessitano di uno scanner professionale per digitalizzare i propri documenti. Questa è una soluzione che come potete vedere è molto compatta, ci consente di caricare nel vassoio superiore fino a 50 fogli che vengono scannerizzati automaticamente uno dietro l'altro e è dotato di sensore CIS A600 dpi doppio, ovvero due sensori che ci consentono contemporaneamente di scannerizzare sia una che l'altra facciata del documento senza dover tutte le volte andare a girare il foglio. Questo ovviamente è un risparmio di tempo non indifferente. Come potete vedere al centro di questo prodotto c'è un grande pannello touch, è assolutamente indipendente dal PC nel senso che tramite questo pannello noi possiamo gestire tutte le funzioni del sistema. Sistema che è dotato di numerosissime connessioni e soprattutto servizi e protocolli per quanto riguarda il salvataggio dei documenti. Possiamo collegarlo alla rete tramite wifi oppure tramite cavo LAN. In questo caso c'è all'interno del menu una funzione molto interessante che è la funzione di tethering, ovvero la possibilità di utilizzare questo prodotto come hotspot. Nel caso venisse collegato alla rete tramite cavo LAN abbiamo la possibilità di farlo diventare appunto un hotspot e creare un punto d'accesso ad internet per smartphone, tablet o portatili. Abbiamo appunto questo tasto centrale che ci consente la scannerizzazione. Accanto adesso ci sono altri pulsanti che ci consentono di modificare il tipo di scannerizzazione, quindi le impostazioni di acquisizione immagine. Possiamo scegliere tra un lato o due lati del foglio, bianco e nero, che tipologia di file salvare, quindi jpeg o pdf e quant'altro e la risoluzione fino a un massimo di 600 dpi. Una volta effettuata la scannerizzazione del documento il sistema ci chiede come salvarlo, cioè dove andare a salvare questo documento. Il pannello ci offre in primis, come vedete, un'anteprima del lavoro scannerizzato e quindi abbiamo la possibilità di andare a modificare il documento prima di salvarlo. possiamo cambiare, possiamo in primis croppare il documento e quindi ritagliarlo, oppure possiamo cambiare il contrasto, ad esempio, o se abbiamo a monte selezionato la funzione elimina pagine bianche, potremo notare che il sistema ha praticamente schippato e non salverà le pagine, le parti bianche, i fogli bianchi, andando a creare un documento senza appunto pagine vuote. Una volta modificata l'anteprima, nel caso ne avessimo bisogno, facciamo dunque salva e possiamo notare che appare il pannello con tutte le tipologie di destinazioni e quindi di servizi attivi. Possiamo salvare su una chiavetta USB, inserendola qua di lato nell'apposita porta, andarla a salvare sul PC se sul vostro computer avete scaricato l'applicazione eScan Client che consente di inserire un nome, di creare un profilo al vostro computer e farlo automaticamente rilevare qui sulla rete dal prodotto senza dover fare impostazioni strane, eccetera. Voi tramite l'applicazione sul computer scegliete quale cartella di destinazione utilizzare per salvare il documento e lui automaticamente, una volta trovato il computer, va ad inserire, va a salvare la scandalizzazione in quella cartella. Possiamo utilizzare il salvataggio su mobile, quindi su smartphone, se sullo smartphone avete scaricato l'applicazione Plastec eScan funziona esattamente come il computer, salvate il nome del vostro cellulare, scegliete la cartella di salvataggio e automaticamente il sistema rileverà sulla rete il vostro telefono e andrà a salvare sul telefono la scannerizzazione. Altre funzioni c'è il cloud, quindi salvataggio automatico delle acquisizioni su profili Dropbox piuttosto che Google Drive, se ce l'avete basta inserire i dati relativi al vostro account, oppure salvataggio su FTP, sempre andando ad inserire i dati o utilizzare la funzione Network che è praticamente il protocollo SMB di Windows per andare a salvare la scannerizzazione su una cartella di Windows che avete condiviso in rete. Quindi se avete già una cartella condivisa in rete potete inserire i dati all'indirizzo IP, ovviamente utente, password e cartella di destinazione e lui andrà a salvare automaticamente sulla rete in quella cartella la vostra scannerizzazione. Una volta inseriti i dati poi lui si ricorderà di questi dati e potrete utilizzare la scorciatoia che si viene a creare senza dover tutte le volte andare a reinserire manualmente nome utente, password, destinazione e quant'altro. Abbiamo già poi in memoria il salvataggio. Altra funzione assolutamente interessante che probabilmente è la più utile di tutto il sistema, una volta che abbiamo appunto selezionato il tipo di scansione, che tipo di file salvare, dove salvare e quant'altro, nel caso voi utilizzaste sempre le stesse impostazioni, sempre le stesse destinazioni, il sistema ci permette di salvare queste informazioni, quindi le informazioni della scannerizzazione appena effettuata, in un menu che si trova come scorciatoia, diciamo un menu scorciatoia nel pannello principale, questo menu dei profili, dei preset appunto salvati. Voi andate a salvarvi il vostro preset con il nome eccetera e lui automaticamente vi farà apparire questa griglia con i preset salvati, ovviamente può essere più di uno, e automaticamente lui farà la scansione con i settaggi da voi salvati in precedenza e nella destinazione da voi salvata in precedenza, senza dover tutte le volte scegliere che tipo di... la risoluzione della scannerizzazione, se fare un lato piuttosto che due, mettere i dati della destinazione eccetera eccetera, se tanto fate sempre lo stesso tipo di scannerizzazioni, utilizzate il preset e in un secondo lui è bello che ho fatto. È un prodotto che costa 550 euro su Amazon, è un prezzo che per le caratteristiche che ha, per le funzioni che ha, ci sta, è costruito bene, l'unico appunto che dobbiamo fare è relativo alla risposta del touchscreen che ogni tanto si perde, bisogna premere un paio di volte, però a parte questo le funzioni che sono messe a disposizione sono molte, sono comode, c'è questa automatizzazione dei preset che è molto molto interessante, molto molto comoda, se siete alla ricerca di uno scanner da mettere in ufficio, da mettervi in casa, nel caso appunto faceste molte scannerizzazioni, allora questo prodotto è un prodotto che vi consiglio assolutamente, detto questo qui in descrizione troverete il link alla recensione completa di questo prodotto dove troverete fotografie e spiegazioni con foto eccetera più nel dettaglio sulle funzioni, seguiteci qui sul canale di YouTube, su Instagram e su Facebook, ma in particolar modo su Instagram dove arriveranno dei giveaway, detto questo, per questa recensione è tutto, da Angelo e dalla redazione di Xtreme Hardware un saluto e alla prossima!